Ancora buongiorno cari amici del canale, questa è l'offerta che chiude l'anno, l'offerta della Mani, questa azienda ormai rappresentata su questo canale da tempo, ormai consolidata, che ha prodotti di altissima qualità e molto molto seria. Ebbene in questa offerta ragazzi ci sono tante cose, perché la Mani vuole chiudere quest'anno con tre tipologie di batterie, 12 volt come questa e la 48 volt, e due tipologie, cioè due potenze di pannelli, ovvero il 440 watt e il 550 watt. Quindi due dimensioni che sono anche idonee a far calcolare a voi quelli che possono essere la perfetta ubicazione sui tetti, in modo da combinare le dimensioni per ottimizzare anche gli spazi. Anche l'occhio vuole la sua parte e quando riempite un tetto fino all'orlo, fino al limite, in modo da creare una sintonia anche su quella che è la forma del tetto, è sicuramente sempre meglio. Bene ragazzi, 4 secondi e vi spiego il tutto. Buona visione, intanto iscrivetevi a questo canale. Intanto ragazzi, i nuovi BMS di questi battery box ci consentono di avere l'interruttore, cioè da qui noi una volta connessi i cavi dell'inverter, l'abbiamo portato in baita, l'abbiamo portato in barca, dove vogliamo noi, connettiamo i cavi e accendiamo. Ebbene ragazzi, vi do un consiglio perché questo risponde anche ad alcune domande che fate. Se avete invece un battery box autocostruito dove non avete questi BMS, avete magari dei daily, avete quindi una presa diretta su questi contatti e attaccate l'inverter che ha il suo interruttore, ebbene nel momento in cui attaccate il pollo negativo e poi il positivo, lì avrete, anche se l'interruttore dell'inverter è spento, avrete una scintilla perché si andranno a caricare all'istante i condensatori. Per evitare questo, che potrebbe danneggiare i contatti nel tempo 1, 2, 10, 15 volte che andiamo a connettere e a scintillare, creiamo una carbonizzazione. Ebbene, soprattutto per i nuovi, perché già l'ho spiegato nel canale, c'è questa resistenza, questa è molto semplice, noi l'appoggiamo al nostro, abbiamo attaccato il negativo, appoggiamo questa al positivo, prendiamo il cavo dell'inverter, qui facciamo delle micro scintille perché questa resistenza assorbe il passaggio, consente il passaggio della corrente che carica il condensatore, ebbene una volta caricato il condensatore subito portiamo il cavo al polo e avvitiamo, in questo modo diamo longevità anche ai contatti che devono essere sempre, ve lo ricordo, piatti e puliti per trasportare corrente, soprattutto per batterie a 12 volt che hanno bisogno poi di cavi di una certa dimensione. Andiamo avanti, adesso parleremo dell'offerta della Mani, batterie e pannonelli. Buona visione! La prima offerta ragazzi riguarda proprio questa batteria, la Mani, e vi ricordo sempre, al magazzino di Milano ha due tipologie di queste batterie, una da 280A al costo di 560€ finita, completa, pronta all'uso col BMS interno, e l'altra è 300A al costo di 600€. Ragazzi, è una delle rare volte in cui menziono i prezzi proprio perché la Mani mi ha detto, fai già i prezzi a video andiamo a trasmetterli chiaramente qua dentro ci sono batterie di grado A ci sono dei busbar significativi in rame c'è il BMS di qualità questa è una batteria con le sue maniglie ha una sua trasportabilità e possiamo portarla ovunque ed è molto molto potente non è pesante e chiaramente sono 4S ci sono 4 celle all'interno da 280 o da 300 i due prezzi ve li ho menzionati e a questo punto abbiamo una batteria che possiamo portare ovunque oppure chiaramente fare un impianto modesto per casa a 12V la seconda offerta ragazzi è sempre una batteria 12V più grande di questa che è esattamente una 12V 580 Ampere ovvero è più grossa in quanto le celle all'interno sono 2P4S ovvero è il doppio circa della potenza di questa ebbene questa batteria in offerta viene 1260 Euro abbiamo un 2P4S e questa già comincia ad avere un suo peso va trasportata in due e avete una limitazione 12V per casa completamente pronta col suo interruttore i suoi contatti non dovete fare nulla ovviamente ragazzi nell'impianto poi seguite tutta la linea delle playlist di questo canale che riguarda la 12V la 48V eccetera secondo di quello che dovete fare andiamo avanti adesso con l'offerta della terza batteria ragazzi ed è una 48V la classica 51.2 e questa è più piccola non è come l'ultima recensione che ho fatto dove era 280 Ampere 300 Ampere questa è 125 Ampere quindi una batteria più modesta più semplice che la mania in offerta sta vendendo a 1000 Euro con 1000 Euro avete una batteria di una certa capienza e chiaramente qui parliamo di alimentazione di case che con 125 Ampere possono fare un impianto significativo un impianto modesto calcolate sempre quanti pannelli che potenza dell'inverter eccetera questa è l'offerta di questa batteria una 48V 125 Ampere l'ultimo pezzo dell'offerta vedete che qua veramente chiudiamo l'anno con tante cose l'ultimo pezzo riguarda due tipologie di pannelli il 440 W della Ginko e il 550 W sempre della Ginko ebbene il 440 W la Mani lo vende a 110 Euro finito ok? chiaramente tutto questo è sempre più il trasporto perché dipende dove abitate se siete sulle isole piuttosto che vicini a Milano se invece volete andare direttamente a ritirare vi ricordo che potete tranquillamente farlo prima chiamate la Mani sempre chattate con con internet attraverso il link che trovate qua sotto il video dal link voi chattate con l'azienda pagate dopodiché stabilite se andare a ritirare o farvela consegnare con il costo aggiuntivo ebbene i Ginko vengono venduti a 110 Euro il 440 W e a 150 Euro il 550 W è una discesa sui costi di questi pannelli enorme quest'anno c'è stato questo boom poi vedremo cosa succederà perché sapete che le fluttuazioni dei prezzi seguono il mercato quello fondamentalmente della domanda e dell'offerta quindi a secondo della produzione a secondo di quello che succede a livello geopolitico poi abbiamo prezzi più bassi o più alti questa è un'offerta mai vista quindi è un'offerta questa qui da approfittare chiaramente batterie di grado A pannelli di altissima qualità cioè questo oramai potrei anche non dirvelo più detto questo i 440 sono più piccoli i 550 sono più grossi vedete un po' il range sulle misure del vostro tetto per andare a scegliere proprio la dimensione idonea per colmare destra-sinistra sulle gronde piuttosto che sui colmi del tetto e andare a fare un impianto molto pulito molto bello anche da vedere in modo che avete occupato tutta la superficie del tetto della pensilina di quello che volete voi in maniera sintonica una cosa molto bella anche da vedere l'occhio vuole la sua parte dicevo all'inizio ragazzi questa è l'offerta della manì un video molto breve che chiude quest'anno con questa azienda molto seria io vi auguro tutti un buon impianto una buona installazione fate sempre le cose in sicurezza e ci vediamo ragazzi al prossimo video iscrivetevi a questo canale buona serata buona serata